Sostanze tossiche nei vestiti di Sheen. Uno studio tedesco rivela Ftalati. Preoccupazioni per sostanze chimiche pericolose nei vestiti di Sheen. Preoccupazioni per sostanze chimiche pericolose nei vestiti di Sheen. In un nuovo rapporto di un'organizzazione ambientale tedesca sono state scoperte sostanze chimiche potenzialmente nocive per la salute nei capi di abbigliamento del popolare rivenditore di fast fashion Sheen. Questo studio solleva serie preoccupazioni riguardo all'uso di sostanze dannose nei tessuti che vengono comunemente indossati dai consumatori. In particolare i plasticizzanti trovati, in particolare gli Ftalati, hanno sollevato motivi di preoccupazione. Il procedimento di indagine si è concentrato su diversi capi di abbigliamento provenienti dall'attuale collezione di Sheen. I risultati hanno mostrato che in vari articoli sono state rilevate sostanze schinse chimiche pericolose. Questi Ftalati, comunemente utilizzati nell'industria plastica, sono sospettati di causare disturbi ormonali. Gli scienziati e gli esperti ambientali avvertono da anni sui possibili effetti sulla salute dei Ftalati, presenti anche nei prodotti in PVC. I ricercatori hanno sottolineato che i capi di abbigliamento testati non solo possono contenere sostanze dannose per l'ambiente durante la produzione, ma comportano anche rischi per la salute durante l'uso da parte dei consumatori. È particolarmente preoccupante che i capi di abbigliamento siano a diretto contatto con la pelle, e ciò per lunghi periodi di tempo. Secondo gli esperti, le sostanze chimiche potrebbero entrare nel corpo umano durante l'uso. L'Associazione dei consumatori ha già classificato i risultati dello studio come critici. Secondo loro, è fondamentale che i consumatori siano informati sugli ingredienti dei tessuti. Hanno esortato i produttori a essere più trasparenti riguardo ai loro processi di produzione. Questo è particolarmente importante per mettere in evidenza la corresponsabilità dei marchi nella salute dei consumatori. È responsabilità dei fornitori di moda controllare la sicurezza dei loro prodotti e, se necessario, astenersi dall'uso di sostanze pericolose. Inoltre, è stato sottolineato che molti consumatori spesso rimangono inosservati quando acquistano abbigliamento come quello di Shein, noto per i suoi prezzi bassi. Questa convenienza potrebbe avere in effetti un alto prezzo, sia per l'ambiente che per la salute umana. L'organizzazione ha raccomandato di prestare attenzione alle certificazioni quando si acquista abbigliamento, che garantiscano che gli articoli siano stati testati per le sostanze nocive e che nella loro produzione siano state utilizzate meno sostanze chimiche pericolose. Nel frattempo, ci sono anche voci nell'industria della moda che chiedono un cambiamento nella produzione verso pratiche più sostenibili. Alcuni designer hanno già iniziato a progettare le loro collezioni senza sostanze problematiche e prestano maggiore attenzione ai materiali ecologici. Ecco la traduzione del testo in italiano. Queste iniziative potrebbero contribuire a lungo termine ad aumentare la consapevolezza sui pericoli delle sostanze chimiche nocive nell'industria della moda. La discussione sui materiali pericolosi per la salute negli indumenti quotidiani è tutt'altro che conclusa. Le attuali scoperte sicuramente stimoleranno sia i consumatori che le aziende di moda a riflettere. La pressione su fornitori come Shein potrebbe aumentare per garantire che i loro prodotti siano sicuri e che il benessere dei clienti sia al centro delle loro pratiche commerciali. Autore Anir Wecke, venerdì 30 agosto 2022.